Buongiorno a tutti voi ben ritrovati in diretta, da Buongiorno con noi un'altra settimana insieme, una settimana che in realtà si è aperta ieri e una settimana che si è aperta purtroppo all'insegna del maltempo e di eventi abbastanza eccezionali come non si verificava da anni sul nostro territorio, martedì 12 dicembre, dodicesima settimana di Buongiorno con noi, quindi diciamo siamo un po' all'insegna del 12, tanto per rimanere in numerologia, vado a presentarvi il graditissimo ospite di questa mattina è con il professor Francesco Bovenzi, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale San Luca di Lucca. Buongiorno professore, grazie di essere con noi, abbiamo fatto fare una levataccia, no? Abituato, magari ora appena esce da qui in diretta l'aspettano immagino al lavoro in ospedale. Come lei pensà, perché siamo alle prese con un evento che per fortuna al momento non ha risvolti alluvionali, ma è l'allerta di codice rosso, quando ti danno l'allerta di codice rosso vuol dire che qualcosa di grave, tra virgolette, potrebbe anche accadere. Io con Gian Piero Pucci che è in regia, andiamo subito ad aggiornare, perché al di là delle scuole aperte o chiuse, delle frane, degli smottamenti, di tutto quello, chiaramente uno dei motivi di maggiore preoccupazione rimane il fiume Serchio. Che questa notte, ringraziamo il nostro telespettatore che ci ha mandato queste immagini, intorno alle 3.30, è impressionante che per chi conosce il Ponte del Diavolo, qui siamo all'altezza del Ponte del Diavolo, questa notte alle 3.30 l'ondata di piena è passata proprio in questa zona e il fiume, lungo un tratto della statale del Brennero, diciamo ha straripato, ha esondato, ha invaso la carreggiata provocando degli allagamenti. Un tratto della strada del Brennero è stata chiusa, ma per fortuna ci hanno confermato che non si registrano danni alle case, alle cose, né tantomeno a persone, quindi nulla di particolarmente grave. Sono, va detto, subito entrati in azione i mezzi della protezione civile della provincia, le forze dell'ordine, insieme ai tecnici dell'ANAS hanno chiuso il traffico nel tratto tra Burgamozzano e Chifenti, in entrambi i sensi di marcia. Le auto sono state deviate sulla parallela via Lodovica. C'è stata anche la prima dichiarazione del sindaco di Burgamozzano, Patrizio Andreucetti, che naturalmente era sul posto, che ha confermato che al di là della paura, perché quando vedi un fiume di questa portata, di queste dimensioni, non puoi che avere paura ed essere preoccupato, diciamo che comunque ha confermato che non ci sono stati danni né a persone né a case. Nelle ore successive l'ondata di piena naturalmente è transitata anche a Lucca, poco fa abbiamo parlato anche con i vigili del fuoco, i quali comunque ci hanno confermato che al di là, ieri sera, stanotte, c'era anche un fortissimo vento, di qualche albero abbattuto e così via, non ci sono situazioni particolari, anche se naturalmente tutti i punti più critici vengono tenuti sotto stretta osservazione, dovrebbe esserci un allentamento della pioggia e del maltempo nelle prossime ore, anche se oggi la giornata pure non è molto bella e soprattutto nella giornata di mercoledì, che dovrebbe dare un po' di respiro. No, professore, diceva al di là di tutto, se ne parlava prima di entrare in diretta, che questa è statistica, ci sono state più onde di piena del Serchio negli ultimi, credo 10-15 anni, che non nei precedenti 40-50. È un dato che fa evidentemente riflettere, no? Che dice? Ma direi di sì, fa riflettere sia sui cambiamenti climatici che sono in atto, e quindi fa riflettere anche su quello che è il nostro comportamento come uomini su questa terra, che probabilmente non apprezziamo molto i beni naturali che noi abbiamo, e sia su quella che poi è la prevenzione sul territorio e la cura del territorio, che è molto importante, che probabilmente in certi momenti è stata in parte disattesa. Chiaramente curare il territorio è come curare l'uomo e quindi la prevenzione è un elemento importante. Ricordo 360 10 38 330, se avete anche, se siete nelle varie zone del territorio della provincia, avete chiaramente delle situazioni, degli aggiornamenti da darci, proprio in tempo reale noi siamo qui, intanto un aggiornamento ce lo dà il collega Roy Lepore, sempre molto attento, puntuale e direi assiduo sulla notizia, ci segnala Lepore a causa di detriti e fango, è bloccata in queste ore la strada provinciale che porta al centro di Stazzema, sul posto stanno intervenendo dei mezzi meccanici, delle ruspe per liberare la sede stradale e consentire il ripristino della viabilità. Andiamo anche sul nostro sito, il cerchio straripa all'altezza del Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzana, quella qua la notizia principale, poi maltempo, martedì chiuse le scuole in alcuni comuni della provincia, mentre per quanto riguarda lo sport facciamo il classico F5 che ci segnala che la notizia principale rimane quella del ritorno dell'allenatore Gino Tazzioli, il nuovo allenatore del Castelnuovo, potessimo parafrasarla in termini come si faceva una volta con i governi, quando poi i governi saltavano, si parlava di Moro Terra, Andreotti, potremmo dire Tazzioli Terra, perché Tazzioli aveva allenato il Castelnuovo nel 94-95 portandolo in eccellenza e da lì era iniziata tutta la scalata del Castelnuovo in C2, poi era tornato dal 2004 al 2006 quando la squadra giallo-blu era in C2, ora torna con la squadra in eccellenza e anche un po' in difficoltà dopo le dimissioni di Edoardo Micchi, comunque lo ha fatto credo soprattutto per ragioni, ora entriamo nel tema della mattina, di cuore, sì il professore. Allora, il professore Francesco Bovenzi, primario abbiamo detto del reparto di cardiologia del San Luca di Lucca, è un reparto che con gli anni, ora non lo dico perché lei qui stamani, ma sta trovando il suo spazio, sta trovando la sua identità, sta trovando la sua considerazione proprio a livello nazionale, professore. Possiamo dirlo anche con un certo orgoglio, no? Direi di sì, assolutamente sì, quello che fa la storia è la forza dei numeri, quindi la forza dei numeri vuol dire i dati di attività che noi riusciamo a produrre in termini di salute e di benessere e soprattutto attività in termini di percorsi di diagnosi e cura che siamo stati capaci in tanti anni con un gioco di squadra importante a portare avanti. Ciascuno di noi è una pedina di un percorso che vive per il malato, che pone al centro il malato e in questo senso noi cerchiamo di dare il meglio di noi stessi per alleviare le sofferenze, essere vicini al malato non solo da un punto di vista di cura della malattia, ma del prenderci carico della persona in sé. Questo è un aspetto fondamentale che io cerco sempre di trasmettere in ogni momento a tutti i miei collaboratori e credo che i pazienti si rendano conto di quanto ciascuno di loro è vicino nel momento di bisogno e quindi il momento di bisogno vuol dire nel momento di sofferenza di un organo così importante come il cuore. Direi abbastanza planistico dire vitale, ma stamani c'è un bell'articolo a pagina 5 dell'inserto del Tirreno che andrei subito a vedere. È casuale, garantisco che è casuale, è una pura combinazione che ci sia la presenza del professor Bovenzi qui e che contemporaneamente stamani ci sia questo bell'articolo firmato dal collega del Tirreno Luca Tronchetti, il titolo è La cardiologia del futuro ha sempre più un cuore lucchese, qui c'è una foto appunto del professor Francesco Bovenzi, all'ospedale San Luca si fa assistenza e ricerca, scrive il collega Tronchetti, poi magari diamo anche qualche numero. Sì, direi che lì dove si cura bene è necessario fare ricerca, cioè crescere professionalmente e confrontarsi con altre esperienze attraverso dati di scienza e quindi dati dell'attività di lavoro e controllare se stessi attraverso questo ci permette di curare meglio i nostri pazienti. Quindi nella nostra attività noi cerchiamo di abbinare quella che è l'assistenza anche a quella che è l'attività formativa, l'attività didattica e l'attività di ricerca. Per cui aver la possibilità attraverso eventi formativi di presentare alla comunità scientifica nazionale e internazionale i nostri dati della ricerca credo che sia un motivo di orgoglio e quindi probabilmente questo ha voluto trasmettere il giornalista quando ha voluto diffondere la notizia dei dati di attività della ricerca che nell'ospedale San Luca viene portata avanti. Ci sarà anche un appuntamento di cui poi parleremo che ormai è diventato un appuntamento abituale per voi a febbraio dal 22 al 24, no? Sì, è un tradizionale evento appunto formativo, ormai la dodicesima edizione in cui tutti i colleghi cardiologi nazionali partecipano con grande entusiasmo perché vengono puntualizzati tutti gli aspetti più salienti della ricerca e tutte le evidenze che ci permettono poi di curare al meglio i nostri pazienti. Allora, visto che vi abbiamo proposto questo articolo del Tireno, la nostra rassegna stampa stamani comincia, vi ricordo, 360 10 38 330 se volete intervenire. Ecco, mettiamo magari i giornali un po' più a favore di telecamera. Si parla del business dell'accoglienza. Migranti, quanto prendono le associazioni? Ecco la graduatoria definitiva del bando da 43 milioni di euro per il bienio 2018-2019, co-and-so-leader con 9,2 milioni. Poi, tutti ammessi i 24 soggetti che hanno fatto domanda per gestire i profughi, sono 1.372 posti messi a disposizione, di questi 216 sono nuovi, gli altri sono riconferme. Tra le new entry un consorzio di cooperative di Bologna, un'associazione di massa, anche Pietrasanta apre le porte, 20 migranti ospitati a Capriglia e poi 3,6 esuli ogni 1.000 abitanti, Lucca è ok. Una breve considerazione, professore, mi pare che insomma quando si parla del business dell'accoglienza o business, come dicevano i nostri avi italo-americani quando emigravano da quelle parti, probabilmente questo è diventato un affare per molti. Dispiace un po' dirlo perché qui si parla di accoglienza, si parla di aiutare persone che sono in difficoltà, almeno. Si, mette insieme gli aspetti della solidarietà e dello spirito proprio innato dell'uomo a cercare di far del bene con momenti in cui probabilmente anche gli aspetti economici vanno considerati e quindi ciascuno porta al proprio mulino anche, sfruttando magari quella che è la situazione del momento, un benessere anche economico. Si, mi dispiace dire che qualcuno lucra su queste vicende, però purtroppo la realtà è anche quella, mi sembra. Però non guardiamo solo chi lucra, guardiamo chi fa del bene. No, no, ma per amordizio sicuramente, sicuramente. Allora, si parla di maltempo anche sul Tireno, maltempo, il vento e la pioggia flagellano Lucca e la Piana, allerta rossa fino alle 6, quindi a questo punto siamo all'8.44, dovrebbe essere terminata e speriamo davvero che nei prossimi giorni il tempo conceda molte ore di tregua, perché a questo punto è importante quello, più ore di tregua ci sono e meglio aperture a singhiozzo per quanto riguarda le scuole. Poi strade interrotte, blackout per gli alberi di smottamenti, anche i vigili di fuoco stamani ci segnalavano altri alberi caduti, altri smottamenti, di cui poi vi daremo notizia nel corso della giornata. Si parla anche di politica, ormai si va verso l'appuntamento con le elezioni politiche di primavera. Nel centro-destra la partita è aperta, in provincia le candidature più sicure sono Mallegni di Forza Italia, Zucconi e quasi certa la ricandidatura di Bergamini. Poi una vicenda un po' curiosa, nel centro di Lucca l'operaio trancia il cavo dell'Enel al buio case e negozi, incidente sul lavoro e rimattina via Santa Gemma, l'uomo portato in ospedale tra l'altro con escoriazioni ad una mano. Sbaglia l'autocertificazione, multa da 315 Euro, il caso di una donna di 58 anni disoccupata e sola che vive in una casa popolare a Lucca. Molte volte sono complicate anche queste autocertificazioni, non sono poi facili per tutti, fruibili. Quindi poi multa di 315 Euro per questa donna disoccupata e che vive da sola mi permetto di dire anche un'esagerazione. Certo. Poi c'è il pezzo che abbiamo visto sulla cardiologia, andiamo anche alla cronaca di Lucca, diluvio e frane, paura per allagamenti, smottamenti, alberi caduti, le scuole riaprono a singhiozzo, ecco dove. Febbre da gioco, ogni famiglia spende in un anno 23.700 Euro. Io non ci credo, però se così dicono, appello del Movimento 5 Stelle stop alle slot. E' vero che ci sono persone che si rovinano con il gioco, questo è altrettanto vero. L'ondata di maltempo, una bufera di vento e pioggia, crolla un albero, pesciatina nel caos, cartello pericolante, cavalcavia autostradale di San Donato in tilte, infatti è rimasto chiuso per diverse ore. Il cerchio tocca il livello di guardia, poi abbiamo aggiornato con la notizia di questa notte che è esondato all'altezza del Ponte del Diavolo a Borgamozzano. Frane e smottamenti sulle strade di Mediavalle e Garfagnana. Ancora vi segnalo, era dal 2009 che il cerchio non faceva così paura, era, mi sembra, il giorno di Natale del 2009. E' ancora allerta, sempre per il maltempo, sacchi di sabbia e monitoraggio tutti al lavoro. E poi la grande febbre, ecco qua, gioco d'azzardo, ogni famiglia spende 3.700 Euro. In un anno 624 milioni in fumo. Eh, vabbè, non so, come la vogliamo spiegare? Una voglia di cercare di dare una svolta alla vita? Non lo so, cercare nella fortuna un rifugio? Come se lo spiegano? Ma io lo spiego con un calo dei valori di questa società. Un calo dei valori è un calo anche di quella che è l'attenzione economica, quella che è lo stato delle famiglie, di molte famiglie. Per cui uno cerca nel gioco d'azzardo una rivincita, sicuramente sbagliando, sicuramente non educato e non credo che quella sia la strada giusta per una riscossa, perché poi alla fine le problematiche, le ricadute di perdite importanti nel gioco sono davvero drammatiche per molte famiglie. Per cui credo che sia importante fermarsi un attimo a riflettere e cercare di dare ordine e regole a questo mondo, che è un mondo, come vediamo dalla notizia, secondo me è abbastanza sommesso. Cioè ciascuno di noi non si rende conto appunto che avere una notizia che 3.700 euro ogni famiglia le spende per il gioco d'azzardo deve far riflettere, deve far riflettere profondamente. Anche perché aggiungo, magari per uno che veramente ha, come si dice, il colpo di fortuna, magari ce ne sono tanti che veramente si rovinano. E questo è il dramma, certo. Chiudiamo rapidamente con la rassegna stampa della Nazione, Casina Rossa occupata, 5 denunce, ma ormai il locale è devastato, scritte sui muri, ingressi sbarrati, arredi distrutti, un blitz studiato. Qui vediamo Maurizio Vangone, gestore dell'ex Casina Rossa, mostra uno dei tanti messaggi lasciati sui muri dagli occupanti, né Stato né padroni, però questi bisognerebbe poi trovarli e farli ripagare questi danni che hanno procurato. Penne, taccuini e computer pronti, torna la grande sfida tra le scuole, scuola di giornalismo, iniziativa della Nazione, stamani la presentazione appunto del campionato di giornalismo, poi il Summer Festival, torna sul palco Lenny Kravitz, partita la pre-sale, la pre-vendita, ecco qui è una cosa che ho affrontato, ma perché non ci si mette la pre-vendita, non è più semplice, per Roger Waters, show sugli spalti, biglietti in pre-vendita da giovedì, ecco ma l'hanno messo sotto, in piazza San Michele l'11 luglio l'appuntamento con quello che è stato definito la mente dei Pink Floyd, qui c'è Mimo D'Alessandro, Lenny Kravitz, segue la Summer Festival, l'aspassionato? Assolutamente sì, ritengo che sia una grande iniziativa, è stato i Rolling Stones? Assolutamente, sì sì sì, una emozione unica, vedere la storia della musica che è transitata da Lucca, perché sicuramente è storia della musica del Novecento, che è transitata da Lucca, chi della nostra generazione non è conosciuto con i Rolling Stones e quindi averli potuti ascoltare sotto le mura è stata un'emozione davvero grande. Sì, penso proprio senza esagerazione un evento storico. Un evento storico sì. Pink Floyd? Pink Floyd ci andremo. Sono sempre, diciamo, della nostra generazione. Ci andremo, sì, anche se ormai sono dei pezzi, però dei pezzi che rappresentano comunque i nostri, sì. L'auto storica non inquina più, ecco il gioiello di Sly Garage, impresa del team lucchese, cervello elettronico, pensate sul motore di una vettura che risale esattamente a 80 anni fa, al 1937. Poi Lucca 2020, il sogno diventi realtà, città della musica, dobbiamo riprovarci, club per l'UNESCO, il presidente Nardi è deciso e la senatrice Giannini diventa membro onorario. Poi c'è questo appello di questi due giovani, grave dopo l'incidente sulla 11, il grido di aiuto, chi ha visto parli, l'appello della fidanzata, lo scontro è avvenuto nella notte del primo novembre e speriamo che questi due ragazzi giovani, 21 e 22 anni, possano trovare qualcuno che possa aiutarli con una testimonianza. A Castelnuovo una cura del ferro da 4,5 milioni, nuovo Scalo Merci, firmato l'accordo, previsto anche il potenziamento della linea ferroviaria Lucca Ulla ed infine andiamo a Viareggio, giovani in coma, cauto ottimismo, forza Teo, tutta la città ti aspetta, gli amici al fianco del 25enne, vittima di un incidente stradale. Dobbiamo fermarci per la pausa pubblicitaria, quando tornavo professore entriamo un po' nel dettaglio, cominciamo a dare qualche numero, anche qualche utile suggerimento che qualcuno potrebbe dire, lo so, ma sono sempre quelli, sì, bisognerebbe che però, e mi rivolga a tutti, magari mi ci metta anch'io, che ne tenessimo conto di questi suggerimenti, no? Certo. Quindi ripeterli non fa mai male. Non fa mai male. A tra poco. 8 e 49, no? Mi raccontava il professor Bovenzi che è ormai primario qui del reparto di cardiologia dell'ospedale Lucca da ben 13 anni, se non sbaglio. Sì, qualcosa in più di 13 anni. Qualcosa in più di 13 anni. E in precedenza mi raccontava, poi ci siamo dovuti interrompere perché siamo tornati in diretta di questa esperienza a Bari, un'esperienza molto forte, molto formativa direi, che l'hai definito come una sfida. È stata una sfida l'aver cambiato completamente vita e quindi tutto questo è stato motivato essenzialmente dal forte legame che io ho con la mia professione e quindi della crescita credo che sia importante nella professione di ciascuno di noi e ho visto come una crescita quella di poter venire a lavorare qui in questa realtà e quindi è stata una sfida perché venire in una realtà poco conosciuta, almeno per me, in una realtà in cui la gente poco ti conosce, come è stata la realtà che ho incontrato io, sicuramente rappresenta una sfida, anche personale perché ho dovuto spostare tutta la famiglia e tutti che hanno accettato di condividere con me questa sfida, alla fine ritengo vincente da un punto di vista professionale e anche da un punto di vista umano. Quanto tempo è stata a Bari? Beh, a Bari io sono nato, quindi sono di quella realtà e quindi tutta la mia. Ah, lei è originario di Bari? Sì, sì, sì. Ah, ho capito. Originario della Puglia e quindi... Ah no, pensavo fosse... No, 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 no. Tanto comincia ad arrivare i primi messaggi, eh. Cominciamo un po' a dare, a fornire qualche dato, prendo spunto anche dal bel pezzo del collega Tronchetti. Cominciamo dagli suggerimenti, li diamo dopo. Prima così facciamo capire quello che succede, gli infarti, infarti che sentiamo parlare colpito da un infarto, poi sì, in un anno, cioè circa 500 ogni anno, poco meno di due al giorno. Sono tanti, sono pochi? Parliamo naturalmente... Ma diciamo che continuano ad essere tanti, continuano ad essere tanti perché le malattie cardiovascolari sono le malattie che da un punto di vista di presenza nel territorio tra la gente, quella che noi chiamiamo prevalenza, rappresentano le principali patologie e anche come incidenza, quindi come numero di nuovi casi che ogni anno si manifestano, restano al primo posto. Per cui l'attenzione nostra deve essere alta, alta sia nel prevenire questi eventi e sia nel saperli curare e la tempestività nelle cure è l'elemento determinante. Ecco, qui leggo se l'infarto viene trattato entro le 48 ore da quando si manifesta, insomma, gli esiti solitamente evolvono in modo positivo. Diciamo che l'infarto di per sé è una unica parola che racchiude in sé tante tipologie di infarto. Ci sono degli infarti in cui il tempo è davvero vitale, degli altri tipologi di infarti in cui qualche ora in più è possibile concedersela prima del trattamento. Quelli in cui il tempo è vitale rappresentano circa il 40% di tutti gli infarti, 35-40% di tutti gli infarti e si curano attraverso delle sostanze che sono dei farmaci che vengono somministrati tempestivamente al paziente, ma soprattutto attraverso la possibilità di una disostruzione meccanica delle coronarie, cioè poter entrare all'interno delle coronarie quasi con un viaggio attraverso delle sonde, dei fili e poter manipolare i restringimenti. Ecco, qui vediamo una coronaria, in particolare una coronaria a destra, che presenta nel primo tratto un restringimento, vedete quella placca, quell'aspetto bianco come si vede in questo cartoon. All'interno c'è un filo guida ed è pronto a scendere un catetere, vedete viene fatto avanzare, lo si pone proprio in corrispondenza, lo si vede molto bene della placca, lo si gonfia, il palloncino che schiaccia la placca proprio la distrugge e quindi permette di ripristinare il normale flusso di sangue, vedete il palloncino gonfiato nella coronaria, non c'è flusso di sangue in quel momento, il cuore continua a battere, dopo aver dilatato col palloncino si rimonta un altro palloncino come in questo caso, che contiene al di sopra, all'esterno un retino metallico, lo si vede appunto molto bene in questo cartoon, lo si rilascia, si ritira il palloncino, lo stent, quindi questa rete metallica viene a parete, riapre il vaso e quindi la coronaria riprende il suo normale flusso e qui lo vedete, si inietta del mezzo di contrasto attraverso la sonda, quella cosina nera e il flusso della coronaria è completamente riaperto e vedete come la lesione che ristringeva il vaso e dava sofferenza al muscolo cardiaco non c'è più e scomparse e quindi il flusso è ripristinato. Verrebbe da dire, vedendolo così, un intervento semplice, in realtà non è così? È un intervento semplice per chi ne fa tanti e quindi come la nostra realtà ne facciamo tanti ogni anno, ne trattiamo circa 200 di questa tipologia di infarti ogni anno, c'è di persone che arrivano con una sofferenza acuta e a volte anche drammatica, qui vedete un cartoon di un cuore che batte, questo è il cuore all'interno del torace, ricordiamo che quest'anno celebriamo i 50 anni dal primo trapianto di cuore, una pietra miliare della moderna medicina, quella che un po' ha rivoluzionato il mondo e ricordiamo anche come la cardiologia è una delle poche discipline che ha ridotto la mortalità tra le tante discipline in maniera significativa tra la gente, quindi questo è il motivo nostro di orgoglio e nello stesso tempo di non fermarsi mai ma continuare sempre a ricercare quelle che sono le strategie migliori per dare e offrire salute. 3 dicembre, ecco qui cosa vediamo? Qui vediamo come si prende un'arteria dalla gamba e attraverso questa arteria si permette di risalire attraverso la orta che è il vaso più grosso che noi abbiamo e che giunge al cuore, quindi attraverso questa strada, chiamiamola autostrada, si permette di arrivare alla base di dove la orta si inserisce sul cuore e cercare quelle che sono valvole o coronarie che partono da quel punto e poi andare a trattarle. Ecco, 3 dicembre 1967, lo accennava il professor Bovenzi, il primo intervento, il primo trapianto di cuore della storia a Città del Capo con il professor Christian Barman. Sì, fu un'intuizione geniale la sua, quella di poter prendere il cuore da un individuo ancora vivo e poterlo riporre nel torace, toglierlo da un torace e riporre nel torace di un'altra persona. Lui lo definì con le sue parole un evento davvero straordinario, l'unico evento in cui si è sentito davvero diverso su questa terra, lui diceva, è stato quando ho tolto con le mie mani il cuore di una persona ancora viva e l'ho riposto nel torace di un'altra persona. Oggi possiamo dire che il trapianto di cuore è davvero una realtà forte. In Italia si fa in circa 12 regioni, il trapianto di cuore non si fa dappertutto, il 90% delle persone che hanno avuto un trapianto di cuore torna a lavorare, ha una sopravvivenza a un anno superiore all'80%, quindi sicuramente è una speranza di vita per chi ne ha davvero necessità e bisogno straordinaria. Raccontava di gente che ha vissuto oltre 20 anni. Assolutamente sì, c'è gente che vive oltre 20 anni, 25 anni, sono tante le persone che oggi vivono con il cuore donato da un'altra persona. Anche la cultura della donazione è un aspetto importante della nostra società moderna, per cui avere donatori credo che sia molto importante perché garantisce sopravvivenza ad altre persone che ne hanno bisogno. È arrivato un messaggio un po' particolare, come si fa, ci chiede questo nostro telespettatore, ad avere una visita da lei in ospedale? Grazie mille. Non so se può rispondere, cosa possiamo rispondere? No, possiamo rispondere che l'azienda si prende cura di noi, per cui basta rivolgersi all'azienda, esistono dei numeri dedicati per cui ciascuno di noi può essere a disposizione della gente, quindi siamo sempre pronti. All'azienda c'è un numero che l'azienda mette a disposizione dei cittadini e comunque noi siamo sempre disponibili per qualsiasi consiglio o necessità su problemi di salute che una persona dovesse avere bisogno e sentire il bisogno di rivolgersi a noi. Mi era rimasto l'inserto del Tirreno di Viareggio, dove l'apertura è legata al maltempo, allerta meteo fino all'alba, poi tutti in classe, riaprono le scuole a Viareggio in Versilia dopo una giornata di pioggia e disagi, perché logicamente poi il maltempo si è fatto sentire anche in Versilia. Poi sanità, in questo caso non si parla di cardiologia, si parla di altro. Il caso protesi d'anca bandite, ma non dappertutto. Viareggio in operato a Rizzoli dove si usano impianti al cobalto, poi assalto al pronto soccorso, in 10 giorni 70 pazienti in più, lunga attesa senza sapere se avrà un posto letto e quando avverrà, il primario Giuseppe Pepe che dice nel fine settimana di missioni difficili perché le famiglie dei pazienti hanno difficoltà a organizzarsi, questo crea tempi lunghi, non so se dipende anche dal fatto che siamo in un periodo in cui magari ci può essere l'influenza. Sicuramente, sicuramente il freddo gioca una componente importante nello slatentizzare molte patologie, poi ricordiamo l'invecchiamento della popolazione, quindi la fragilità di tante persone anziane e quindi il bisogno di ricorrere al pronto soccorso l'Italia è un paese sempre più vecchio purtroppo, c'era quel film, non so se l'ha visto, non è un paese per vecchi ma l'Italia purtroppo è così, la realtà purtroppo è quella. Remorini a processo per minaccia all'ex amico già condannato in via definitiva a 38 anni per il caso delle donne scomparse, l'episodio sarebbe avvenuto nel 2014 nel mirino il super testimone Tureddi. Un parcheggio sempre da Viareggio al posto della sottostazione delle ferrovie, è il progetto del sindaco del Ghingaro, l'amministrazione chiede un incontro alle ferrovie, appunto l'impianto rinnovato tecnicamente si sposterà in zona Comparini. Bene, sono le 9, direi che possiamo andare alla pausa pubblicitaria, quando torniamo abbiamo ancora altri numeri e niente, cominciamo a dare anche, a parlare di quello che è il fiore all'occhiello del suo reparto, leggo qui, l'attività di ricerca e di formazione, va bene, magari ci dice qualcosa in più nel dettaglio come tutto questo è nella pratica, mi sembra quotidiana poi. A tra poco 9.01 col professor Francesco Bovenzi, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale San Luca di Lucca, leggevo, 60 lavori pubblicati negli ultimi 7 anni sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, beh insomma. Sì, è un dato importante che ci dice quanta dedizione noi dedichiamo al nostro lavoro, fare ricerca vuol dire avere la capacità di, e la voglia di curiosare, curiosare vuol dire andare a porsi delle domande su ogni condizione che poi è il nostro lavoro, quindi partire dal caso, dalla quotidianità del caso per porsi domande e fare delle ipotesi. Attraverso domande e ipotesi viene fuori quella che viene definita un percorso di metodologia per mettere a frutto quella che è la propria esperienza e trasmetterla ad altri in maniera tale che altri, quindi questo attraverso le pubblicazioni, che altri possano leggerla, condividerla e confrontarla con le proprie. È così che attraverso questi piccoli, chiamiamoli mattoni, che sono appunto gli elementi e la ricerca che la scienza va avanti e quindi miglioriamo la nostra assistenza. Non solo, ma fare ricerca vuol dire anche partecipare a studi di ricerca, vuol dire anche fare gioco di squadra e vuol dire anche cercare di definire i percorsi migliori per i nostri pazienti, ecco perché si cura bene se si fa ricerca in un luogo di cura e quindi questo è un aspetto da non trascurare. Nello stesso tempo anche fare formazione vuol dire mettere continuamente a conoscenza di tutti quelli che sono gli avanzamenti delle evidenze e quindi di quelli che sono gli avanzamenti delle conoscenze che ci permettono sempre di curare meglio i nostri pazienti. C'è una domanda, vorrei sapere, ci chiede questo nostro telespettatore, se dopo fatto due angioplastiche, probabilmente dopo aver fatto due angioplastiche, le vene si possono richiudere, cosa gli possiamo rispondere? Allora la risposta è sì, partiamo da un dato, la medicina ha due numeri che non esistono in medicina, sono lo 0 e il 100, quindi non esiste mai la certezza per nulla, fare l'angioplastica vuol dire risolvere tantissimi problemi come abbiamo detto e come stiamo vedendo, però è chiaro che la variabilità biologica di ciascuno fa sì che lì dove si è messo e rilasciato il palloncino e lo stent nel tempo e una percentuale che oggi è molto più bassa rispetto al passato, una percentuale che va intorno al 10-15%, si possa riformare una lesione. Questa lesione si può riformare nel punto in cui il vaso è stato trattato oppure si può riformare per una progressione della malattia, soprattutto per chi non si attiene agli stili di vita e alle cure consigliate. Qui ci siamo, lo stile di vita, leggevo anche sempre qui dal pezzo di questa mattina, un terzo delle persone che soffrono di patologie cardiache sono soggette ad infarto, sono in sovrappeso, quindi attenzione al peso, a non ingrassare troppo, un quinto è fumatore, un quarto conduce una vita sedentare e non fa attività fisica, un altro fattore a rischio coronarie è l'ipertensione, insomma vabbè, mi sembra che alla fine a Lucca sono circa 7 mila cardiopatici noti e di questi l'80% ha sofferto di problematiche acute, mentre il 15% ha bisogno annualmente di cure con ricovero ospedaliero, quindi i suggerimenti alla fine professore sono sempre quelli. Sì, i suggerimenti sono assolutamente sempre quelli, cioè avere un corretto stile di vita vuol dire fare attività, non avere uno stile di vita di sedentarietà e quindi fare attività fisica, vuol dire controllare la pressione arteriosa e quindi far sì che i valori della pressione arteriosa siano ben controllati, chiedersi perché i valori sono alti, non sempre con la terapia si riesce ad avere un controllo ottimale, quindi ci possono essere altre cause che vanno ben indagate, che giustificano la persistenza nonostante la terapia della pressione elevata, non smettere di fumare perché il fumo fa male, la nicotina è un potente vasocostrittore che sicuramente fa male, quindi assolutamente non fumare, controllare il colesterolo, oggi esistono dei farmaci che permettono di controllare il colesterolo, con la dieta si riesce a fare qualcosa ma si riesce a ridurre il colesterolo di un 10-20%, probabilmente non è tutto la sola alimentazione, quando il gioco si fa duro, cioè quando il colesterolo è davvero alto, i farmaci sicuramente aiutano in prevenzione sia primaria ma soprattutto secondaria, cioè vuol dire per chi ha già avuto un evento cardiovascolare, per chi già è definito come un cardiopatico, quindi non bisogna sottovalutare questi aspetti. C'è un'età più a rischio, un'età meno a rischio, spesso si dice... Ma l'età più a rischio diciamo che tutte le patologie, tutte le patologie cardiovascolari crescono con l'età e quindi con l'invecchiamento della popolazione ci aspettiamo, oggi gli ospedali pullulano di persone che sono oltre 80 anni ricoverati, anche oltre 90 anni ricoverati, in cui il confine tra la salute e quindi il benessere che possiamo garantire e invece un'assistenza più che altro direi familiare di vicinanza, di affetto e di cura da un punto di vista più umano che scientifico è molto labile quando ci troviamo appunto a affrontare persone che hanno ultranovantenni, hanno queste problematiche e sono davvero tanti e quindi qui si apre un fronte che va al di là di quella che è la conoscenza scientifica, in fronte di aspetti etici delle cure che noi costantemente cerchiamo di affrontare prima da un punto di vista empirico, poi da un punto di vista della formazione, ciascuno di noi ha un proprio approccio a questo tipo di problematiche e crediamo sempre di privilegiare non la sofferenza ma almeno cercare di migliorare quella che è il residuo della qualità di vita di una persona ultranovantenne. Il tipo di vita che conduciamo oggi mi sembra di capire non aiuta la popolazione però? No, i ritmi appunto accelerati, lo stress, la sedentarietà appunto sicuramente non aiutano perché determinano all'interno dell'organismo quei sistemi continui di allarme che generano liberazione di sostanze che sicuramente non aiutano l'apparato cardiovascolare, lo tengono sempre come se fosse una corda in tensione e quindi è più frequente che in queste condizioni situazioni acute come l'infarto possano fare capolino. Allora andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera dove si parla, purtroppo si torna a parlare di attentati, bomba New York, torna la paura, l'attentatore vuole colpire Times Square, bloccato, parla di una vendetta per i raid israeliani. Ha azionato il detonatore nel tunnel che collega la metropolitana alla stazione dei bus, quattro feriti dall'ordigno che per fortuna alla fine era un ordigno fatto un po' così, artigianale e che quindi non ha provocato maggiori danni. Pagò il furto del virus spia, gli Stati Uniti fermano i PM, attacco a hacking team, Milano costretta ad archiviare. Poi lo scrittore Amos Hots, Trump definisce Trump un bambino viziato, ma io temo i fanatici. Andiamo anche alla prima del quotidiano nazionale La Nazione, bersagli di Natale, terrorismo e luoghi a rischio, kamikaze a New York, ferite quattro persone, la mappa delle città più esposte ad attentati all'interno appunto. E' chiaro che insomma New York, Londra, vengono in mente subito le metropoli, le città più a rischio, alla fine ci sono quelle. Cerchio in piena, notte di paura, scuola riaperta a Singhiosio, in prima pagina anche Lucca per il maltempo, assunzioni e stipendi, scioperano i medici, alta 40 mila operazioni, camici bianchi, turni massacranti, e poi Gentiloni, premier garbato, ma dall'economia all'estero i risultati non si vedono. Si parla anche di Medio Oriente, nella rete dello Zar, Turchia, Egitto e Siria scelgono Putin. Ecco sì, io non so il professore fino a che punto seguono un po' le vicende della politica estera e internazionale, ma si ha l'idea che alla fine la politica di Trump, la politica degli americani, favorirà, diciamo, l'egemonia di Putin in Medio Oriente, ma visto quello che è successo da un anno e mezzo a questa parte, forse Trump di questo non si lagna più di tanto, mi sembra di capire, no? Ma diciamo che la politica di Trump è una politica che ancora deve essere ben compresa, perché è ancora troppo giovane un anno e poco di presidenza per poter capire dove ci vuole portare Trump. Sicuramente si ritorna verso una bipolarizzazione di due grandi potenze e quindi questo ci riporta un po' un tuffo nel passato, che si era sicuramente superato in questi anni. A livello di guerra fredda, dice lei? A livello di guerra fredda, a livello di due potenze. Noi riusciamo a vedere la punta di un iceberg, però tutto quello che sta sotto ai giochi potenti di petronio non ci crede. No, non ci credo assolutamente. Sono come quei due, non so se si ricorda la scena di quei due amici che si abbracciavano, uno gli sfilava il portafoglio e l'altro gli sfilava l'orologio. Un po' è lo stesso gioco. È un po' quel giochino lì, no? Io non credo che siano tanti amici, quindi la polarizzazione è attesa in politica internazionale con le scelte che stiamo appunto vedendo. Il labirinto cuore tra scienza e assistenza. Sì, una bella metafora. E questo è il titolo del tema che dal 22 al 24 febbraio al centro congresso e auditorio San Francesco di Lucca appunto porterà tra l'altro quanti colleghi, quanti medici aspettati? Ma lo scorso anno ci sono state 500 iscrizioni al congresso distribuite nelle tre giornate con presenze sempre importanti di frequentatori e partecipanti al congresso che ricordo arrivano a tutta Italia. Anche quest'anno, a ieri, le iscrizioni superavano le 100 unità quindi ci aspettiamo di ripetere gli stessi numeri dello stesso anno se non addirittura di più. Ogni anno scegliete un tema diverso? Più che un tema, diciamo che la medicina, la cardiologia in particolare cresce per cui di anno in anno ci sono sempre nuovi studi, nuove ricerche che ripropongono nuove linee guida, nuovi comportamenti che dobbiamo avere per cui parlarne e sottolineare questi aspetti quindi gli aspetti del nostro comportamento al letto del malato per quanto riguarda appunto questo labirinto in cui il filo d'Arianna non è altro che la nostra conoscenza scientifica e ci permette di uscire fuori dal labirinto e di portare al benessere appunto il paziente che si rivolge a nostre cure vuol dire avere conoscenza di questi dati della scienza e quindi autorevoli relatori vengono a Lucca per discutere gli elementi più importanti delle patologie cardiovascolari. Per questo il labirinto cuore tra scienza e assistenza. Allora andiamo sul sito della Repubblica dove troviamo tra le notizie dell'ultima ora la manovra salta abolizione vitalizia parlamentari PD sfida grasso basterebbe una delibera poi uccise ladro il giudice fu legittima difesa archiviata l'accusa di omicidio volontario. Nel 2015 il pensionato sparò a malvivente in casa propria. Ecco di questo che idea si è fatto? Cioè alle tre di notte ti entrano in casa e insomma non perché li ha invitati a prendere il caffè fu legittima difesa. Ecco questo potrebbe fare anche casistica questa sentenza. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Fa casistica come tutte le sentenze della Cassazione. La legittima difesa credo che anche la Costituzione italiana ne ha dato respiro di recente e quindi ha dato spazio alla possibilità di difendersi e quindi credo che sia corretto in un momento in cui cresce a livello territoriale la delinquenza e quindi i furti e quindi le aggressioni alle abitazioni credo che sia legittimo potersi difendere. Direi proprio di sì. New York sempre dalla Repubblica esplosione nel cuore di Manhattan arrestato uomo ferito nello scoppio Casa Bianca distruggere ideologie del male. Andiamo anche sul Corriere della Sera. Questa notizia qui è cura. Il giudice delle minigonne imposte. Mi attaccate? Sono un genio come Einstein. Andatevele a leggere. Parla Francesco Bellomo, magistrato sotto procedimento per aver obbligato le borsiste del suo corso a indossare abiti succinti. Lui si difende. È un metodo scientifico. Tanto è un bel metodo scientifico. Poi ognuno si farà l'idea che vuol farsi. Non lo so. Bomba New York. Un lale elettricista che voleva vendicarsi di tutto. Gli Stati Uniti proteggono l'uomo che finanziò e l'arte di Hacking Team. E poi allerta meteo in Liguria. Tracima Lentella. Ecco qua. Vado, crolla tratto della passeggiata. Guardate queste foto. Questa è la passeggiata di Vado. Siamo in Liguria. Credo in provincia di Savona, se non ricordo male. Vado. Vabbè, niente. Il maltempo la fa un po' da protagonista, mi sembra. Eh sì. Certo, ha detto poca vita sedentaria, magari. Lo sport seguitelo, ma praticatelo anche, no? Certo. Lei nella sua vita ha praticato sport? Ha fatto qualcosa? Sì, io giocavo a pallacanestro. Ah. Era un buon giocatore a pallacanestro. La statura c'è. Sì, sì, era un pivot degli anni 80-70. Segue ancora la pallacanestro? Poco, perché poco. Nel senso, cerco di seguirla quando posso, però ne soffro quando vedo giocare, perché avendo giocato, veder giocare gli altri, mi pone una condizione paradossalmente di sofferenza perché ho voglia di riprendere il pallone. Ah, è appassionato in particolare di qualche squadra? No, seguo un po' tutto quanto il basket in genere, soprattutto quello che è il basket professionistico americano e quindi le squadre storiche, il Boston Celtics, Los Angeles Lakers. Ah, le sfide mitiche degli anni 80. Sì, sì. Chicago Bulls di Michael Jordan, di Scott Pippen, ricorderai quella squadra meravigliosa. Sì, sì, sì. Oggi ci sono altre realtà, i Golden State Warriors, poi lei immagino sia più preparato di me. Calcio? Lo seguiamo? Calcio, sì, lo seguo. Poco, diciamo, come tifoso, però lo seguo, sì. Essendo di vari, immagino che potrebbe essere tifoso dell'Inter. Sono tifoso dell'Inter. E io non lo sapevo. Può confermare che non lo sapevo? Non lo sapevo. Perché so che in Puglia c'è un feudo nerazzurro, formidabile. Beh, andiamo bene quest'anno. Sì, andiamo bene. Molto bene. Va bene, dai, ne parliamo, ma non solo di Inter. Parliamo anche dei sorteggi di Champions League, subito dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci tornati, siamo all'ultimo spazio di Buongiorno con Noi. Sono le 9.20, quindi abbiamo 6-7 minuti di tempo. Poi, Gian Piero, prepariamo quelle immagini con cui abbiamo aperto, legate al maltempo, perché magari in apertura e in chiusura rifacciamo un po' il punto della situazione. Io naturalmente ogni tanto controllo e anche su, insomma, sulle notizie che giungono e mi sembra che, insomma, non ci siano al momento altre particolari criticità legate anche al fiume Serchio. Poi, naturalmente, facciamo il punto fra qualche minuto. Diciamo del rapporto del professor Francesco Povenzi, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale San Luca di Lucca, con lo sport. Ha giocato a basket, quindi grande appassionato di basket. La sofferenza per non poter giocare, però, quando vede giocare gli altri. Sì, sì, sì. E il calcio, invece, ho scoperto, casualmente, insomma, appassionato, tifoso dell'Inter, come molti pugliesi, come molti pugliesi. Quindi quest'anno, insomma... Quest'anno possiamo essere contenti, perché la squadra sta andando bene. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Allora, è arrivato un altro messaggio. Buongiorno, circa dieci anni fa mi hanno diagnosticato un ipertiroidismo di grado medio. Allora, domanda, quali sono i rischi per il cuore e quali sono i valori limiti oltre i quali la tiroide è dannosa per il cuore? Grazie e buon Natale a tutti voi. Beh, buon Natale, siamo al 12 dicembre, però si può già cominciare. Quindi, ipertiroidismo di grado medio, quali sono i rischi per il cuore e quali sono i valori limiti oltre i quali la tiroide è dannosa per il cuore? Ma diciamo che la tiroide quando funziona tanto sicuramente non giova al cuore, non aiuta il cuore e quindi va controllata. Bisogna capire perché c'è questo ipertiroidismo. Le cause di ipertiroidismo sono tante. Una volta identificata la causa è possibile trattare l'ipertiroidismo o rimuovendo la causa che l'ha causato oppure assumendo dei farmaci per controllare l'ipertiroidismo. L'ipertiroidismo di solito dà dimagramento, di solito dà tachicardia, di solito può essere uno stimolo anche se questa è un po' una leggenda perché deve essere un ipertiroidismo davvero severo, dà lo stimolo ad aritmie a volte anche importanti che possono alterare in maniera significativa la qualità della vita di una persona. Però ecco, parliamo di ipertiroidismi di grado severo. Un ipertiroidismo di grado medio va capito a quale può essere la causa. A volte possono essere dei farmaci, a volte possono essere altre situazioni. Sicuramente un inquadramento della problematica in questo caso è dovuto. Quindi fare, cosa consiglia? Fare ulteriori accertamenti? Fare ulteriori accertamenti, vedere un'ecografia della tiroide, ricontrollare bene tutti i valori, vedere, fare un attento esame clinico e cercare di capire se ci sono particolari contesti che possono scatenare l'ipertiroidismo, se l'ipertiroidismo è di causa primitiva o secondaria. Insomma, va inquadrato. Di sicuro le ripercussioni sul cuore ci sono, ma sono soprattutto nelle forme severe, nelle forme davvero di ipertiroidismo importante. Ci chiedono, è pugliese il professore, se lo può dire di dove? Io sono tarantino, dice questo nostro telespettatore. Sì, io sono nato a Ostuni, provincia di Brindisi, sono sempre cresciuto a Ostuni, in provincia di Brindisi, sino al periodo dell'università, dopodiché ho fatto l'università prima a Perugia e poi a Bari. Quindi nel 1976, quando ci fu il campionato del mondo di ciclismo, mi iscrivevo all'università, ma lei viveva ancora a Ostuni, con Mertens che vinse sul filo con Moser. Sì, su Moser che però vinse il campionato del mondo su pista. Però vinse il mondo, sì. Vabbè, abbiamo buona memoria. Sì. Allora, Gazzetta dello Sport, prendiamoci l'Europa, il sorteggio è benevolo, schieriamo sei squadre, tutte possono andare avanti. Allora, in Champions, Juventus, Tottenham e Shakhtar Roma. in Europa League, Borussia Dortmund, Atalanta, Napoli, Lipsia, Steaua, Bucharest, Lazio e Lugo Goretz, Milan. Poi, duelli crudeli tra CR7 e Neymar, perché c'è anche Real Madrid, Paris Saint-Germain, uno andrà a casa, già agli ottavi di finale. Conte è atteso, Conte è allenatore del Chelsea, dalla prova Messi e dal Barcellona. Stasera c'è l'Inter 2 per domare il Pordenone dei Miracoli in Coppa Italia, mentre Nedved scuote Di Bala, lavoro e rinunce. Immobile vede rosso, poi si scatena il Toro e lì si era nel posticipo. Torino ha vinto a Roma sulla Lazio per 3 a 1. Europa amica, anche qui si parla del sorteggio, intanto nel dopoderby di Manchester, tra l'United e il City, negli spogliatori è scoppiata una rissa, rissa e feriti dopo il derby con il City. Voglio andare all'interno, perché si parla anche della Lucchese. Allora, Bini, l'amministratore unico della Lucchese, nessuno è in poll. L'amministratore delegato e le voci sulla società, aspettiamo che il sindaco chiami. Tanto Castelnuovo e Tazioli, emozione e onore. Stasera torna anche il campionato di hockey su pista, che come sa ha grandi appassionati, soprattutto in Versilia. Hockey forte dei Marmi, condizionato dall'allerta meteo, la chiusura degli impianti sportivi ha impedito di compiere l'allenamento serale in vista del match di questa sera con il Breganze. Centro Giovani Calciatori Viareggio ha la caccia dell'ottavo successo della stagione. Barozzi, il portiere dice quella di Trissi non è una trasferta difficile, ma per noi è fondamentale proseguire nel trend positivo. Voglio parlarvi anche di questa bella realtà stagionale che è la Nottolini-Capannori, la Pallavolo, la Nottolini di Coccio-Beccheroni e la Libertas-Volle di Delgado, cioè il Forlì, si affronteranno sabato al Palapiaggia per la supremazia in B2. Siamo quasi in chiusura. Intanto facciamo rivedere Gian Piero le immagini che ci hanno mandato i nostri telespettatori che sono sempre molto attenti. Dunque ricordiamo questa notte alle 3.30 il fiume Serkes è andato all'altezza del Ponte del Diavolo dove appunto è passata l'ondata di Piena, l'acqua ha invaso la carreggiata della statale 12 del Brennero provocando allagamenti. Un tratto del Brennero è stato chiuso ma per fortuna come poi ha confermato anche lo stesso sindaco di Borga Mozzano Patrizio Andriuscetti non si sono registrati danni a case né tanto meno a persone. subito sono entrati in azione i mezzi della protezione civile della provincia le forze dell'ordine insieme ai tecnici dell'ANAS naturalmente occhi puntati ancora sul fiume per l'ondata di Piena in città che comunque sembra essere passata senza particolari conseguenze e come sempre grande attenzione alla colena del fiume anche a Ponte San Pietro in corrispondenza della Casina Rossa ma insomma a quest'ora non abbiamo segnalazione di particolare criticità l'auspicio adesso per il tempo insomma conceda questa tregua. Dunque professore ringraziando l'appuntamento 22-24 febbraio a questo punto mi sembra assolutamente da ricordare 22-24 febbraio presso l'auditorium di San Francesco questo importante evento di cardiologia nazionale che si chiama Cardiolucca il labirinto cuore tra scienza e assistenza Noi ci saremo noi ci saremo sicuramente ringrazio il professor Francesco Bovenzi grazie a voi grazie a voi e soprattutto la ringrazio credo a nome insomma di tutti quelli che sono i suoi pazienti e non solo per il lavoro che fate all'ospedale San Luca che devo dire qualche volta è stato stato criticata questa struttura mi sembra in modo anche un po' esagerato e ingiusto perché non solo il reparto di cardiologia ma abbiamo letto in questi giorni anche per altre realtà all'interno dell'ospedale non dobbiamo sempre vedere tutto negativo anzi credo che dobbiamo guardare dovremmo guardare spesso lo so non sempre è facile al futuro con un certo ottimismo no? Assolutamente sì io credo che il San Luca sia una realtà forte soprattutto una realtà moderna che resta vicino ai cittadini alla propria città a cominciare dal pronto soccorso fino a tutti i reparti credo che abbiano un valore e un valore al servizio del cittadino e questo è bene ricordato se no poi diremo come ricordava il compianto Gino Partali l'è tutto sbagliato l'è tutto da rifare ma non sempre per fortuna è così grazie a voi buona giornata ringraziamo anche Gian Piero Pucci noi in pratica salutiamo il professore e rimaniamo qui perché tra poco c'è la prima edizione del TG Noi buongiorno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti